La trincea e la periferia, un'altra faccia della guerra, è stata raccontata dal professor Marco Severini, storico e docente di storia contemporanea dell'Università di Macerata, protagonista del secondo appuntamento dei mercoledì di Biumor a Tolentino. Tra i perché che hanno scaturito il primo conflitto bellico mondiale, il professor Severini ha illustrato non solo le complesse strategie politico-militari, ma la vita di chi quelle battaglie le ha veramente vissute tra il fango e il sangue delle barricate. Quindi l'atroce sofferenza del conflitto sperimentata nelle periferie delle città e nella regione Marche. Le Marche furono una delle prime periferie sottoposte al fuoco dell'impero strongarico, addirittura questo comportò il transito di un treno che fece avanti e dietro per diversi anni da Ravenna fino al sud, militarizzazione, fuga dalle coste e anche accoglienza di tutti i profughi dopo lo sbandamento clamoroso di Caporetto nel 1917. Le Marche anche in questo rivelarono di essere una terra ricca in termini di accoglienza, di ospitalità e di confronto umano. Perché la guerra vista dalle trincee? Perché la trincea offre un'angolazione visuale tutta particolare che coinvolge il nobile e il popolano, la persona famosa e quella sconosciuta e perché nelle trincee è nata la memoria della grande guerra ed è stata tramandata poi attraverso tre differenti generazioni.